Buongiorno ragazzi, io sono Ari Wake e oggi siamo qui in questa serie in collaborazione con Chili in cui parleremo dei film preferiti dei rapper che ascoltiamo di più Abbiamo chiesto a Marrakesh quali fossero i suoi e la prima risposta che ci ha dato è stata Trainspotting In questo film il tossicomane Mark e la sua banda di malviventi che vivono una vita underground ad Edimburgo rubando, bevendo e bucandosi cercano una via di fuga per quella dura vita di tossicodipendenza suscitando nel film pene ed ironia Sei un po' cattivo e un po' pazzoide ma ei, non è questo che fa sbarellare noi ragazzi? Mark decide quindi di voler cambiare definitivamente vita ma la tentazione di ricominciare è veramente forte Il secondo film per i preferiti di Marrakesh è Carlitos Way la storia dell'ex spacciatore a cui vennero dati 5 anni di galera al posto di 30 grazie all'astuzia del suo avvocato Con chi lavori adesso? Io non lavoro con nessuno Nessuno Mi sono ritirato Una volta uscito di prigione deve affrontare tutti i cambiamenti e decide quindi di scappare alle Bahamas con sua moglie ma soprattutto per via del suo passato la strada per arrivarci non sarà poi così semplice Sei nei libri di storia Che fugge sia dai vivi Che dai morti Un uomo ridotto a un unico istinto Sopravvivere Il video finisce qui Spero che vi sia piaciuto e vi ricordo di iscriverci con un commento qua sotto quali sono i vostri film preferiti Detto questo vi saluto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio dei film preferiti di Grazie a tutti Grazie a tutti